Ciao ragazzi, benvenuti nuovamente sul canale YouTube Exegutale per questo nuovo video Oggi finalmente riusciamo a parlare dell'Aggressive Recon Era un po' che dovevo fare questo video ma ho aspettato che uscisse sempre per gli account Il nuovo DLC Second Assault in modo da poter annoverare tra i migliori fucili per giocare aggressivi Bolt Action Il Goal Magnum che ho già tra virgolette recensito No, recensito no, però ci ho speso due parole nell'ultimo video che ho fatto sempre inerente a Second Assault Allora, intanto, che cos'è l'Aggressive Recon? L'Aggressive Recon non è un tizio che si è svegliato male la mattina o ha bevuto una miriade di caffè e gioca con Recon Insomma, un tizio incazzato nero Ma è un tipo piuttosto strampalato, sarei dire Che si diletta nel pushare come uno stesso pensando di avere un fucile d'assalto in mano ma invece ha un Bolt Action Tutti quelli che dicono, beh, no, l'Aggressive Recon è quello lì che è utile alla fazione Quindi compie gli obiettivi, cattura le flag, però gioca aggressivo col Bolt Action È una delle più grosse boiate che voi possiate sentire Perché diciamocelo chiaramente Il cecchino, soprattutto in questo Battlefield 4, è strutturato e fatto in modo tale che dovete giocarci dalla distanza Ok? Il cecchino, se ci pensate, è l'unica classe che ha un'arma che vi permette di essere precisi e letali dalla distanza Nessun'altra arma presente in generale negli FPS ma soprattutto, ripeto, in questo Battlefield 4 ha queste caratteristiche Se voi decidete di giocare Short Range con un Bolt Action Distruggete quelle che sono le peculiarità di questa classe qua e i suoi punti di forza Quindi l'avrete capito, a me non è che va tanta genio sta storia che no Il cecchino che è già aggressivo è strafico E anche perché, vi dico la verità, tutte le clip che vedete in giro, no? De questi, esti americani, Sergent Enigma e cacchiate vari che fanno sti video dove fanno vedere che shotano la gente Sì, per carità, fa figo Lo so anch'io che fa figo fare una clip dove pari a una persona, no? Con un colpo solo la killi, magari facendo un quickscope, una sorta di quickscope Perché poi adesso parliamo anche di quickscope o una scoped Fa figo, però, non vi fanno vedere? Tutte le altre volte che provano a farle muoiono come dei cretini Perché se tu incontri un altro che ha la tua stessa skill, la tua stessa capacità Con un fucile d'assalto automatico e tu c'hai un Bolt Action Beh, vi assicuro che su dieci volte lo potete killare due volte, ma poi morirete Ripeto, in Battlefield 4, perché in Battlefield 4, appunto, dicevo dei quickscope Non esistono i quickscope Cioè, adesso forse faranno una patch e cambieranno un po' le cose Ma, allo stato attuale, anche se voi fate un quickscope Quindi andate in mira velocemente e togliete la mira Non avete, al momento del rilascio, la precisione come se stesse in aiming Se stesse, scusate, in aiming downside Cioè, ovvero in mira Quindi avete lo spread di quando siete in fire Quindi alla fine non serve a niente Il quickscope che si fa qui, che comunque mi vedete fare anche a me ogni tanto in queste clip Aiuta solamente a centrare meglio il bersaglio Ma non cambia le cose dal punto di vista dello spread Poi, oltre a questo aspetto qui legato al quickscope Ci sono tutta un'altra serie di complicazioni Che vi rendono veramente la vita difficile Quando volete giocare aggressivi Con un bolt action Beh, prima fra tutte La soppressione Sapete che in Battlefield 4 c'è la soppressione E il cecchino ne soffre tantissimo Infatti, quando siete soppressi Dovete arrestare la vostra azione E aspettare che finisca Perché, altrimenti, non prendete nessuno Un altro aspetto negativo riguarda il moltiplicatore di danno Perché sì, è vero Sotto i 12,5 metri Tutti i cecchini fanno 100 di danno Però se colpite un braccio ad una gamba Il vostro avversario si trova a 7% di vita Perché il moltiplicatore è di 0.93 Quindi molte volte è capitato a me E capiterà anche a voi Che fate uno shot stupendo Ma lo prendete su un arto Lui rimane a 7% di vita E magari, per vostra sfortuna Ha un SMG in mano O comunque un'arma con un ferrette molto elevato Mi spara una raffica E voi non fate in tempo O a sparare il secondo colpo O a tirare fuori la vostra sidearm Quindi, vedete È veramente complicato In batte F4 Cercare di giocare con questo stile di gioco Ma prima di darvi qualche consiglio Su come giocare aggressivi col bolt action Vorrei tornare un attimo sul discorso Del perché fa figo No? Questa cosa qui E vorrei un vostro parere Quindi scrivetemi nei commenti Quello che pensate Cioè, perché va tanto di moda? Io vi dico la mia Intanto Anzi, non vi dico la mia Vi faccio riflettere L'avete mai visto da vicino Un fucile Autoratore Girevole Scorrevole Si chiama così in italiano, no? Se non lo vogliamo chiamare Bolt action E vogliamo fare gli italiani L'avete mai visto da vicino? Io sì Ed è un qualcosa Che è bellissimo Non è complicato Vederlo Basta che Insomma Avete un amico Qualcuno che fa Che faccia Fa insomma La caccia di selezione Si utilizzano questi Fucili qua Ovviamente con calibri civili Ma sono l'equivalente Insomma Di quelli Da guerra E capite subito Guardando in uno dal vivo Che non è un'arma Che voi Buttereste lì In mezzo Alla mischia Sarebbe un po' come Prendere una macchina Di lusso E farci rally Quindi È un qualcosa Veramente distorto Se ci andiamo a pensare Questa cosa qui Comunque Vi ripeto Ditemi Quello che pensate voi In merito a questa cosa qui E magari Fatemi capire Meglio a me Perché Fa veramente Ripeto Fico E così stiloso Giocare Aggressivi Con un bolt action Ok Come ho già detto In qualche video passato Io non mi ritengo Assolutamente Un esperto Del cecchino Per il semplice fatto Che non lo utilizzo tanto A differenza di altre classi Come ad esempio L'assalto Che l'ho giocato tantissimo A Bad Company 2 A BF3 A BF4 Quindi Anche il geniere Il recon Invece è una classe Che utilizzo di rato Poi ovviamente Ci gioco Perché è divertente Anche perché Se no sembra quasi Un discorso ipocrita Come Si sta distruggendo Questo stile di gioco Però ci hai fatto un video sopra No È divertente Questo lo ammetto Tant'è che ogni tanto Mi piace anche a me Giocarci Con l'aggressive recon Però Alla fine Non è un qualcosa Che utilizzo Al massimo Detto ciò Provo comunque a darvi Qualche consiglio La prima domanda Che uno si fa Quando vuole Provare a giocare In questo modo È Che ottica Utilizzo Allora So che molti Ritengono Il 6x O l'8x Le ottiche Migliori Io vi faccio Un discorso Un po' Particolare Visto quello Che vi ho detto Sul quickscope No Voi vi trovate Molte volte A zoomare E poi mirare Purtroppo è così A questo punto Se dovete giocare Short range Zoomando con un'ottica Con un 6x O un 8x E muovendola In mira Siccome avete Uno zoom forte È veramente complicato Riuscire a capire Dove è il vostro bersaglio O quanto dovete anticipare Quindi È un po' Un macello Avendo un 4x Ok da lontano Non sparate più bene Come un 6x Come diciamo Quando avete un 6x O un 8x Però È molto più facile Colpire E acquisire Un bersaglio Che si trova A 15-20-30 metri Quindi Sicuramente Io preferisco Se devo giocare Short range Con un bolt action Un 4x O addirittura Un 3.4x Perché in questo modo Anche se io Non ho fatto Un quickscope Diciamo Perfetto Iniziale Posso Andare a Targettare Il mio bersaglio Con un 6x Non 8x Se voi Avete messo in mira In una zona Un po' distante Dal vostro bersaglio Diventa complicato Andarlo a Riacchiappare E Riguardo proprio a questo Un altro consiglio Che vi do Oltre al fatto Di utilizzare i mirini Con uno zoom Non troppo elevato È Per fare Questa sorta Di quickscope Dovreste Mettere Prima ancora Di andare in mira Il bersaglio In mezzo al vostro Crosshair Bianco Ovvero questa Croce bianca Che avete Che in Battlefield 4 C'è È uno dei pochi aspetti Positivi Di Battlefield Molte volte Nei giochi Quando avete il cecchino Non avete nessun tipo Di crosshair Sullo schermo Qui c'è Sfruttatelo Ovvero Prima di andare in zoom Cercate di Traccare il vostro Bersaglio In hipfire Quindi mettetelo in mezzo A sta croce bianca Dopodiché potete Appunto Entrare in mira E colpirlo In modo veloce Quali sono i migliori Cecchini per giocare Aggressive Beh qui La questione si fa Molto semplice Perché ci sono Tre sniper Che si distinguono Tra tutti gli altri Sotto l'aspetto Della precisione Nel fuoco Non mirato E sono Lo scout elite Il 338 Rigon E l'SV98 Cioè con questi Tre sniper qui Avete una probabilità Maggiore rispetto Agli altri Di fare Unscoped Comunque lo scout elite Rimane in assoluto Il migliore L'SV98 Non è male Il 338 Rigon Oltre a avere Diciamo Questa precisione Maggiore rispetto Allo standard Nel fuoco non mirato E anche il fucile Più preciso Quando sparate In mira E siete In movimento Anche se ad ogni modo Non ve lo consiglio Assolutamente Per giocare Aggressive Infatti non lo trovate In queste clip Perché è estremamente Lento Infatti Che cosa Possiamo dire Riguarda gli altri Beh gli altri Sono tutti uguali Sotto l'aspetto Dell'accuratezza Nel fuoco Non mirato E quando sparate In movimento Quindi la cosa Che dovete andare A guardare Quanto è grande Il caricatore Quanto è capiente E quanto Velocemente Sparano Il ferretto È importantissimo Quindi Altri cecchini Che vi consiglio Sono il colmanium Che è velocissimo 63rpm L'M40 E il fucile Cinese FYJS Che ha 54rpm Se non ricordo male Anche la pistola Ripesto Rolo chiave Quando si parla Di aggressive Recon Io mi sento Di consigliarvi Le due pistole Semi automatiche Più veloci Come ferretti Quindi la FN 57 E la pistola Cinese QSZ A 92 Ma comunque Vanno bene Un po' Tutte le pistole Se volete Soprattutto Quando il vostro Bersaglio È ferito Magari l'avete Dittato È come vi dicevo Prima 7% di vita Oppure Quello che è Insomma In quel caso Tutte le pistole Sono buone Quella che però Vi fa fare la differenza Secondo me Proprio dal punto di vista Della aggressive Recon È lo short Perché Quando Invece Avete missato Il vostro Bersaglio Ed è full vita Beh lo short Vi dà l'opportunità Di killarlo In poco tempo Mentre con Questi pistole Di cui vi ho parlato Adesso La FN 57 E la QSZ 92 Beh se l'avete mancato Ed è full vita Con queste Gli dovete mettere 5 hit addosso Che non è proprio Semplice Semplice Quindi Lo short Sicuramente È un'altra Di quelle sidearm Che non va sottovalutata Quando si parla Di aggressive Recon Oltretutto È anche molto buona Quando magari L'avete Hittato Il vostro Bersaglio A una certa Istanza Quindi 20 25 metri Con lo short Lo tirate fuori Sparate al volo E lo prenderete Insomma Con una discreta Facilità Visto che avete Non una palla Sola Ma più Pallettoni Raga Come sempre Quasi sempre A questo punto Vi lascio Con qualche clip Se il video Vi è piaciuto Mettete un like Se vi piacciono In generale I nostri video Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Sempre qui Per un prossimo video O potrei dire La parola video Ogni tanto E noi ci becchiamo E noi ci becchiamo O potrei dire E noi ci becchiamo